Ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutti, ho un pochettino vlog per la mia clinica, come state? Gira tutto bene? C'è un silenzio meraviglioso, sta bellissimo qua, e niente, forse mi raccontate di bello, sperando che la sentizia tutt'ora un po' di siano foto, ma che c'è la lavatrice che sta lavando, quindi va bene, e poi c'è anche un bambino che manchia solo, va bene, dettagli, sono con i miei airbots, ovviamente l'ingresa, mi ha pagato un po' tantino, ma sono sicuramente, ecco da qua. Dunque, come state? Io me la capisco, e niente. Dunque, dopo vi metto la clip, come la giornata pure, ma già si sa che bene, la giornata pure, con il taglio, il consiglio, il taglio picciolo. E niente, dunque, ho risultato a prendere una tuta, un tuta, un padrono, un penocchietto, un padrono che si abbassa fino in qua, per regalare un punto del genocchio, perché vi serviva, aspettatevi, non c'è un po' nulla, aspettate, è una cosa. Allora, siamo qui, la tuta, la tuta, la tuta che ti colpino, perché è un primo attenzione qua, e quindi ho dovuto per forza comprare qualcosa, altrimenti, nuovamente per la palestra. Di nuovo, ti ho detto sì, di nuovo, perché ne ho bisogno, ma anche perché fa tanto, adesso sta cominciando a fare un gran caldo, ma un caldo, boia, che io poi sudo, non sudo tantissimo, quasi, siamo lì. E quindi ho bisogno di fare tanta ginnastica, tanto avvento, come faccio di tutte le altre volte io. E quindi ho bisogno di fare qualcosa di nuovo, anche la palestra. E le maglie le ho, o questa, che è un codosso, e le altre. Se mi sentite un po' faticata, o stanca, perché ho perso bene le gocce, perché ho perso delle gocce, e ho sentito un nuovo tonfo, era la signora, che è molto garbata, non commento, guardate, la nostra vicina, vabbè, se andiamo dubitoso, sul garbo, proprio simpatico della nostra vicina, vabbè. È fatto così che vogliamo farle, niente. E quindi, che dire, non la sto canticando, però, potevo anche appoggiarla al cancello, perché noi abbiamo conto, loro dovete sapere, che questi nostri vicini hanno, hanno, non hanno, il cancello è attaccato al nostro muro, e quando va a chiudere, lo spatte in una maniera pazzesca, perché, ve lo dico, scusate la rivagazione, ma, però dovete dire al colpo che siete, avrete sentito un tonfo gigantesco. Questo è, cosa intanto dirvi, che, ehm, sì, ragazze, è brutto, però, avrete sentito il tonfo, sperando che non si sia sentito troppo pesante, questo tonfo, e, che altro dirvi, nulla. Sono andato a fare un po' di spese oggi, non so, sono andato all'Eurospin, però domani andremo all'Eurospin, sicuro. E, Andrea, forse lo abbiamo, non lo so. E poi l'8 luglio dovevano installarci il modem, lo chiamano con il pacco a casa. Sì, noi non tocchiamo una del pacco, ma c'è una del pacco che ce l'ho portato, però, appena avremo l'8 luglio, anzi, prima ci devono chiamare, e poi verranno ad installarci il modem, perché io non so come fare, quindi non come, per me è arabo, tutta sta roba. Cioè, lo saprei anche fare, ma appena fare i pasticci è meglio che faccio per loro. Intanto prima mi ho detto, anzi, non mi ho detto che volevo incastrare il telefono a questo coso, ma sapendo che, sapendo che il telemedia appoggiavi alla sedia più a un astuccio di quando andavo a scuola, è meglio di stare lì, ma come si dice, a fare, a smontare con questo aggettino qua, questo, questo è un trepiedi, vedete cos'è, è un trepiedi. Sopra c'è questa qua, sotto, anzi, scusate, sotto, e qui si può allargare così, vedete, potete allargare quanto volete, io ora l'ho fuso perché non mi occorreva, però beh, qua lo incastrate, vedete, qui è cinesato ovviamente, però va bene lo stesso, per fare dei videoflop all'aperto, e questo è il solito incastro del telefono, che regge anche molto bene, non so, già, questo è l'acconto, questo è l'acconto, scusate, se mi chiedete, ma voi non fai, tu non fai al mare? Ancora no, ragazze, non so che dovrei andarci, ma sono tra un allenamento e l'altro, della palestra, e appena posso andrò al mare, perché ci dobbiamo anche organizzare, con la mia educatrice, ci dobbiamo organizzare, per andare in palestra, sì, in palestra, diciamo, ma beh, per andare in spiaggia, ci dobbiamo organizzare, non è semplice, aspetta un secondo, lo trovo, l'ho messo, a per andare in palestra, ok, aspetta un altro, ok, aspetta un altro, cosa succede e cosa trovo a dirvi? che praticamente mi sta piaciendo molto dare questi videovlog a case ricci e non filmo sempre all'aperto perchè finalmente mi vergogno non so cosa però vabbè quindi non va il mio outfit è questo semplice e non dico proprio sportivo però mi permette di stare formata con questa bella maglia che mi ritrovo che ho indossato mi piace col cigno a stress tutto stress vedete già e non me l'ho questa volta e noi viene anche l'occhio di siano ma vabbè e nulla saranno le due le tre non mi ricordo non saprei non mi ricordo non saprei però non saprei quanto di bella ci dov'essere beautiful però non mi ricenderla di sì forse c'è beautiful che cosa del attento che cosa del attento che cosa del attento telecomanda io metto di qui il 4 e poi di qui si accetta di scuola e poi di qui si accetta di scuola Sì, ci deve essere beautiful a quest'ora, a questo qui non lo guardo a quasi sempre, però a me piace tenere la luce sulla luce già, la televisione è accesa. Vabbè, luce con il cielo è perché tanto c'è un caldo allucinante, però abbiamo un confronto, abbiamo un contenuto, come si dice, beh, diciamo capiti, la porta che da questa parte c'è molto veloce, se non la potrei accendere, ma a me non mi fai accendere la luce, non lo so. Allora, questo è quanto? Che stanchezza, che stanchezza, che stanchezza, che stanchezza. E vabbè, ho sentito rumore il mio stomaco. Ho sempre, ho sempre fatto il mio stomaco, ma vabbè, e tagli. Vabbè, ragazze, io ho chiacchierato con voi abbastanza, e tanto controllo si sta registrando ancora, aspettate. Io vi saluto, vi ringrazio, e nulla, ci vediamo al prossimo video. Vabbè, aspettate un po', voglio fare una foto, non so come si faccia. Sì, ok. Vabbè, me la faccio dopo. Ciao. Ciao. Ciao.